Siamo in giorni di festa, il Natale è da poco passato e quindi siamo tutti più buoni, tra virgolette, come si suol dire. Naturalmente a me non sono molto simpatiche queste maniere esteriori del buonismo, però il discorso di essere altruista, di pensare agli altri, è qualcosa che, al di là del fatto che siamo a Natale, riguarda anche noi interpreti. Possiamo anche essere magari non altruisti nella vita, ma nel suonare dobbiamo guardare all'altro. Cosa vuol dire? Che quando affrontiamo un concerto, il modo migliore secondo me per affrontare un concerto, perché di questo parliamo in questa piccola pillola, è non pensare a noi stessi, non pensare a quanto siamo bravi o a quello che gli altri penseranno di noi, non pensare di dover dimostrare qualcosa che riguarda noi o il nostro lavoro, ma pensare a chi ci sta ascoltando. Guardate quanto è bello quello che stiamo suonando, guardate, ascoltiamo insieme la bellezza di questa musica, e condividiamo le meraviglie che ci sono. Ora vi faccio sentire queste meraviglie. Io sogno un festival in cui non si sappia il nome degli artisti che suonano. Qualcosa di simile è stato già fatto, ma nel senso che chi va ad un concerto, quindi vale anche per chi ascolta, oltre che per chi è sul palco, non dovrebbe a sua volta essere egoista o pensare vediamo se i soldi del biglietto che ho pagato sono stati ben spesi, vediamo se questo pianista suona meglio o peggio di quello che ho ascoltato la volta scorsa, o del disco che ho a casa. Non è questo il punto. Siamo altruisti anche da ascoltatori. Per ascoltare dobbiamo sapere appunto guardare verso l'altro. È anche evidentemente importante sapere ascoltare noi stessi, ma anche per ascoltare noi stessi. La relazione con l'altro è fondamentale. E spostando questo discorso, applicandolo proprio ad un fatto puramente pianistico, pianistico, anche nella gestione di più voci all'interno di un brano pianistico, ad esempio per fare un pianissimo in una voce secondaria, molto spesso il trucco è proprio quello di ascoltare la voce principale, cioè di non soffermarsi sulla voce più difficile da controllare. Ad esempio nella sonata Waldstein, primo movimento, prima della ripresa, c'è questo lungo palazzo dominante in cui abbiamo appunto... appunto c'è una nota lunga e l'altra mano invece all'interno deve suonare delle note rapide che però devono essere molto leggeri, non devono essere così forti da nascondere la risonanza del basso. Se adesso io qui mi concentro sul suonare molto leggero la mano destra, per quanto di leggerlo posso fare sarà sempre troppo forte, perché sto pensando a quelle note lì. Se io invece ascolto l'altro, in questo caso non ascolto dalla mano destra le note che devo suonare, ma ascolto l'altra voce, la risonanza del basso, sarà più facile restare con la mano destra all'interno di questa risonanza del sol. Idem, quando poi la sinistra deve suonare, io ascolterò, focalizzerò con il mio orecchio la risonanza del sol della mano destra. Ascoltando il sol come proseguo la risonanza di questo sol, inserirò all'interno di questa risonanza le note della sinistra. Se invece io mi soffermo solo sul pensare a suonare piano queste note, saranno già troppo forti. Questo capita anche nella vita familiare. Se io sono troppo addosso ai miei figli, decontestualizzo i loro problemi, facendoli sembrare più grandi di quel che sono, perché penso soltanto a loro, rischio di non far bene né a me né a loro. E come vedete, molto spesso pensare in generale, guardare le cose dall'alto, ascoltare, dare importanza alle priorità giuste, in questo caso le voci armonicamente più importanti, le note lunghe, ci aiuta anche a fare molto meglio le cose più piccole, le note in questo caso più brevi. A presto. Buon ascolto.